Benvenuti nella nostra cucina. Oggi presentiamo il primo dei due video sulla dieta dei Romani e dei legionari bizantini. Questa volta prepariamo due alimenti fondamentali fondamentali, buccellatum e peccato di peccato, chiamato lardum o laridum, aggiornato con un benvenuto prodotto antico, posca. Iniziamo con gli ingredienti. Adesso necessitiamo di peccato di peccato di peccato, peccato di peccato, vinaiglia rosso, peccato di peccato, olio d'oliva e erbe aromatiche, peccato e peccato di peccato di peccato. Ora prepariamo il buccellatum, il biscotto di peccato che era parte delle racioni dell'armi. Adesso necessitiamo di peccato di peccato di peccato, due peccato di salto e acqua calda. Adesso necessitiamo di peccato di peccato di peccato con contenuto di peccato di peccato. Prima di tutto vogliamo ringraziare per sottolineare al Patreon e comprare il nostro libro Ancena Romani. Iniziamo davvero il vostro supporto per continuare a fare ricerca e video. Nella descrizione sotto trovate i link per comprare il libro su Kobo & Amazon e ai supportatori sul Patreon, dove trovate articoli sull'efficacia storica e le tradizioni delle fuori. Il buccellatum era un ruolo di peccato formato, come descritto in un lexicon del XII secolo, attribuito a zona ras. Nel libro del medico di Ezio di Amida, scritto nel XVI secolo, troviamo una ricetta per un buccellatum medicinale, lievito con piacere salto e coccato sotto un domone. Un metodo comunale per cuocere pane in Roma e Grecia, che useremo qui. Il buccellatum era parte delle racioni dell'armi, come il pane, lardo, matto, vino e posca. Come troviamo in un'entrata del Codex Iuris Civilis, scritto dall'Empere Costantius, nel 360. Noi troviamo una menzione di vegetali o frutta, ma possiamo pensare che il loro uso dipendente sulla viabilità locale. Lasciamo il pane restare la notte. Prepariamo di nuovo il pane, poi formiamo piccoli ruoli di pane. È fondamentale cuocere e cuocere bene il buccellatum, perché era pensato di essere mantenuto per un lungo tempo senza spogliare. Per questo motivo era cuocere due volte, per eliminare tutta la malattia. Procopius di Cesarea, un storico del secolo bizantino bizantino, nella sua storia di guerra, scrive su un prefecto praetorico, Sostingi, che ha il buccellatum cuocato solo una volta per salvare l'argento. Il buccellatum, in realtà, deve essere cuocato due volte e cuocato per un lungo tempo, per ridurre la malattia. Per conseguenza, pesa meno che il pane comunale. Per questo motivo, i soldati ricevono un quarto più come porzione che il pane. Il prefecto, per pagare meno l'acqua e i buccellatum, fa il buccellatum cuocere solo una volta, poi lo mettono su navi. Ma quando i rassi arrivano, il buccellatum è morbido e sembra male. Mettendo questo pane, i soldati diventano sicki e 500 di loro morono. Abbiamo cuocato il buccellatum per circa mezza un'ora. Come suggerito da Ezio di Amida, lo facciamo in un testum, una sorta di oven portabile. Ma puoi farlo in un testum o in un oven regolare. Nel X secolo, la cronica di Joshua, leggiamo la preparazione di una campagna militare in cui non solo i buccellatum sono coinvolgiti nella preparazione del buccellatum per l'armi, ma anche i comuni comuni di Edessa, che la bucciano in loro casa. L'autore scrive circa 630.000 modi di bucciato in un anno, che è più di 5.500.000 litri di farina di bucciato per rassi di un anno. Aggiungiamo il buccellatum di bucciato completamente, poi cuocerlo di nuovo per 10 o 15 minuti. Il prodotto finale deve essere un bambino molto difficile, con un contenuto di acqua 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 di acqua. Ma si dureranno per un lungo tempo senza molde. Inoltre, i soldati di buccellatum hanno ricevuto pane. di acqua 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 di acqu La sembreremo con una buona quantità di dill per circa 15 minuti. Questa ricetta, molto semplice e sicuramente suitabile per un soldato, è scelta dalla Recoquinaria, il ricettario convenzionalmente attribuito a Apicius. Abbiamo usato un dill secolo, seguendo la ricetta, ma abbiamo bisogno di mantenere in mente che un legionario probabilmente avrebbe usato le erbe wilde che ha trovato. Abbiamo tagliato il pesco di porco, tagliato un po' di olio di oliva e aggiungiamo un po' di salto. Nell'antiquità lardo è sempre comito, cucito e considerato una città tradizionale plebeian. L'abito di cominciare lardo è guardato con curiosità dal Antimus bizantino nel 6 secolo e considerato un uso tipico di Frank. Grazie. Per più informazioni sull'ardo e la ricetta storica, guardate la nostra pagina Patreon. Facciamo la posca mixando circa sette parti d'acqua e un'acqua di vino rosso, aggiungendo un po' di panni royal. La razza di acqua e vino può cambiare dipendendo sul vino che usate. Usiamo il penne royal, seguendo la raccomandazione dell'Oscorides, che suggerisce questa combinazione per il stomaco e l'acqua. Ma se non lo avete, usate la menta invece. La posca, chiamata da alcune fuori di vino rosso, in aceto latino, aveva molte varianze e era usata in particolare come remedio medicina, anche come un minuto comune per plebeiani e soldi. E' usata anche come ingrediente di cottura. Vedete più informazioni nel video di Salakattabia, linkato nella descrizione qui sotto. Sicuramente la dieta di un legionario durante una campagna era abbastanza monotona, con piccole varianze caratterizzate da panni plebeian. Come ricordato nell'array militare di Vegezius, vivendo tra il quarto e il quattro secolo, un soldato deve cuocere di semplice, rustica. Lardo e posca con panni plebeiani sono abbastanza buoni. Con la cucina, il lardo perdono alcune del suo peso e l'acqua di salto, e in questo modo diventa possibile mangiare una quantità sufficiente per una maniera. E' fondamentale considerare che l'ampero Constanze recomenda di servire ai soldi due giorni di mattone e un giorno di lardo. La prossima volta prepareremo più ricette suitabili per l'armi, scelte dalle storie storiche. Se siete interessati a frutti e sapori antichi, ascrivete al nostro canale e considerate a supportare noi sul Patreon. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.